buonasera ragazzi mi starete chiedendo cosa ci fai qua dietro ma adesso vi faccio vedere perché ragazzi salutate il bar per te salve ciao sanna non disturbate il pilota oggi siamo in ricognizione abbiamo un'escursione mirata il pilota di ottobre e quindi come il nostro solito a fare riusciamo meno male a fare un piccolo giro di ricognizione e in più se c'è da pulire se c'è da pulire significa da tagliare i rami che sono cresciti durante il periodo che non siamo passati periodo di inattività della strada e quindi riposteremo con noi anche oggi bene? dopo? grazie 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 con qualche elicottero 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 con qualche elicottero